Controlli della Polizia di Stato nel fine settimana lungo le principali strade e i luoghi più frequentati dai giovani. In particolare sono stati predisposti 21 posti di controllo lungo le principali strade in entrate e uscite da Verbagna e Baveno e nei pressi degli svincoli autostradali. Nel corso del servizio sono state controllate 514 persone, 196 veicoli ed elevate 4 sanzioni amministrative. Di queste ben tre sono state erogate per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Gli agenti della sezione volanti della Questura insieme all'unità cinofila della Guardia di Finanza di Verbagna hanno segnalato per uso di sostanza stupefacente tre soggetti di cui due cittadini italiani di 25 e 22 anni e un 25enne di origini argentine. In tutto sono stati sequestrati 15 grammi di hashish e un grammo di cocaina. Grazie per la visione!